Ripensando a questo fatto, a questo triste episodio, alle modalità, alla brutalità, alla violenza, vi confesso che faccio fatica a trovare parole. È quello che ho dichiarato stamattina, cioè il fatto che non possiamo dire io non centro. È una riflessione che davvero ci deve accompagnare. Attraversiamo, proviamo ad attraversare questo terribile momento con la nostra fede, con tanta forza, con tanta forza interiore. Ci stringiamo al dolore delle famiglie, della famiglia di Michelle, ma anche della famiglia del ragazzo che si è immacchiato di questo gravissimo crimine, perché vogliamo che la logica dell'amore prevalga sempre. E di questo amore noi vogliamo essere testimoni, di un amore che supera la violenza, come è stato l'amore di Gesù quando veniva a Crucifisso, di un amore che supera la sopraffazione, di un amore che supera ogni meschinità, ogni miseria umana. da che sta tutti con il sorriso eh? Dove sta tutti con il sorriso eh? Dove sta tutti con il sorriso, perché questo che vuole lei eh? Sei il Plavio. Quindi siamo Plavio tutti con il sorriso dove sta. Non dovete piangere, non dovete piangere che lei non lo vuole. Non piangere, non piangere. Non piangere, sorridete, guardate che sorriso che c'ha. Guardate che bel sorriso! Giustizia! 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 Giustizia!